Sesta edizione del Mediolanum Baby Cup, ci sarà anche l'R11, siete pronti a partire? Sì, siamo pronti, siamo carichi per questa sesta edizione del Mediolanum Baby Cup e siamo felici di partecipare. Che cosa chiederai ai tuoi ragazzi per affrontare questo torneo? L'importante è che si divertino e anche l'impegno che si chiede alla partecipazione di un'edizione del genere. Ci sarà l'R11, ci sarà anche l'amatoriale Bassiano e questa è una bella novità. Sì, è una bella novità che quest'anno abbiamo deciso di affrontare questo torneo, anche perché il nostro è un piccolo settore giovanile che pian piano stiamo cercando di far crescere il più possibile e appunto partecipiamo anche noi quest'anno. Ecco, cosa può darvi in termini di crescita la partecipazione a questo torneo? Di sicuro la crescita è maggiore per la data ai ragazzi, perché comunque sia facendo sempre più esperienza e sempre sotto il segno della correttezza in campo, di sicuro i ragazzi cresceranno pian piano e secondo le tappe che giustamente devono affrontare questi ragazzi della scuola calcio. Grazie. Grazie.